Iniziamo la serata con gli Splash! Che giovani! Siete giovanissimi! Sono un po' timidi! Allora, loro vengono da Porciano e Magione, quindi sono un po' misti La loro maschera è far vedere al pubblico che suonano solo per divertimento Che questa è una cosa importante Il loro volto è la passione per la musica e l'impegno che impiegano nella musica Adesso aspettiamo che siano pronti tutti gli strumenti Quanti anni avete? Io 16 e 15 Ah, qui siete proprio alle prime armi, giovanissimi Studiate tutti? Sì, sì Allora, aspettiamo Sembrano pronti? Bene Ci presentano il brano Anymore Scritto da loro stessi, gli Splash! Allora, eccovi insieme! Ehi, cari! L'amore! Gli, ti ho! Ehi, cari! Ehi, cari! You're not in love with me anymore Hey girl, why are you here? I'm not in love with you anymore You said you'll never go, I won't be anyone I'll make you feel so good, it's not to do me so But now everything is so beautiful You don't want to see me anymore You don't want to talk with me anymore But I'm with you The only one that I love Yesterday, I've talked with your friend He told me why you went away So tell me baby, the reason why you laugh And don't be shy, full of that man You didn't think that all my body wasn't yours But now everything is so beautiful You don't want to see me anymore You don't want to talk with me anymore But now everything is so beautiful I'm with you You don't want to talk with me anymore 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 You don't want to talk to me about it Allora, come d'abitudine, anche quest'anno abbiamo tratto delle frasi che per noi erano le più importanti e inerenti al tema Adesso vi dico la frase che abbiamo scelto, voi magari me la commentate, cosa vi pensate riguardo appunto alla canzone Allora, la frase è Non essere timido, togliti quella maschera, mi hai mentito tutto il tempo, è di un altro Questa è ovviamente la traduzione del testo che avete appena fatto in inglese Allora, il testo l'ho scritto io È un testo che descrive una vera esperienza veramente accaduta Ah, ok Sì, e l'ho scritto due giorni dopo, può essermi lasciata Ah, quindi diciamo da un'esperienza personale hai trovato l'ispirazione Esatto, esatto Vogliamo presentare i componenti della Deng? Certo Alla chitarra Lorenzo Taglioni Bravo Bravo Al basso Paride Bravo Paride Bravo Alla chitarra Alessandro Bravo Bravo E alla batteria Nicolo Bravo Bravo E alla voce Tania Bravo 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 Grazie mille E in bocca al lupo Grazie mille Grazie mille Grazie a tutti.